questo è un bruchino oh la regina la regina sta arrivando l'ho aspettata così a lungo ed è quasi giunta oh sto per scoppiare di gioia l'ho tenuta al sicuro questo sacro giardino l'ho tenuta al sicuro per tutto questo tempo e per esso la regina tornerà e mi insegnerà a volare quindi una matide vuoi aspettarla con me straniero? vuoi giocare con me? allora dall'aspetto che ha sembrerebbe un babbeo ma quasi sicuramente non sarà un babbeo si chiama marmu e lo sfidiamo vuole giocare dove è andato? porca e ciao qui devo usare il dash ma non sotto di lui ok rimbalza ma come cazzo lo colpisco eh guarda cosa ti ha detto vuole giocare ma io non voglio più giocare mi sto vedendo le lisciate comunque dal po' se mi puoi fare uno shout a mistigan ah ho capito ci sarei mai arrivato sta letteralmente giocando si ma è un merda perché non me la aia ho capito ma per giocare non bisogna fare male è una palla comunque ci vengono a aspettare è vero anche dal rumore si poteva capire fa boing però mi dispiace quasi vero si però mi uccido uguale scommetti ci muoio uguale oh no bababoy questa era molto sottile però come boss fight ah straniero sei forte molto più forte di me ho teso a lungo straniero ho combattuto a lungo straniero e sono molto molto stanca presto la regina sarà qui e io ho solo bisogno di riposare un po' svelemi quando la regina sarà giunta straniero forse la regina ci insegnerà a volare straniero sarebbe stupendo vero poverino poverina è benvenza grazie a tutti Grazie per la visione!